Dal Gran Premio di Monte Carlo alla box, torno alle World Series di box con le fasi finali individuali. Sentiamo Franco Ligas. L'allegra brigata Dolce Gabara Milano Tender è partita per la Cina dove il 27 e il 28 maggio sarà impegnata nelle finali individuali delle World Series of Boxing. Con Russo Damiani e il professor Sturla ci sono anche il medio Derebianchenko e l'altro tecnico Korcinski. Sarebbero stati tre i tuoni in finale se i giudici non avessero penalizzato Valentino. Abbiamo visto gli avversari che affronteranno, diciamo che sono alla portata. Adesso qui il problema diventa la trasferta, diventa il fuso orario, diventa questi pochi giorni che si arriva e si deve combattere, si deve dare il massimo della prestazione. Questo lo chiediamo al professor Mario Sturla, no? Ma sicuramente lui è più esperto, poi è anche più... Ce la fa. Certo. Cercheremo comunque di subire al meglio, sia attraverso l'alimentazione, sia con un processo di metodologia di allenamento adeguato per poter arrivare preparati al massimi livelli. Sergei Derebianchenko affronterà sabato Soltan Amityginov. Il pugile a zero ha 23 anni e si è qualificato con quattro successi. L'ucraino, secondo il suo coach Korcinski, è preparato benissimo per sostenere le sette riprese, ma è successo prima fra i dilettanti. Clemente Russo salirà sul ring venerdì, il pomeriggio in Italia, contro Mejidov. Il massimo della Gerbaijan ha vinto come Russo se incontri su sei ed è un picchiatore. Tatanka, più esperto e solido, dovrà fare un match giudizioso. Sono sette round, quindi partire subito così, diciamo, a viso aperto, non so quanti round poi riuscissimo a fare tutti e due. Quindi ecco, conservo almeno la prima ripresa per lo studio, diciamo un po' il mio pugilato, quello un po' del dancing sul ring e studiandolo bene prendegli il tempo. Poi dal secondo round vedremo.